Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video riguardante la viticoltura. Oggi volevo parlarvi della gestione del sottofila, in particolare del sottofila in arbitro. È un argomento un po' dibattuto per via dei diserbi. Volevo iniziare facendovi subito notare il sottofila in arbitro di questo vigneto di prosecco, piuttosto sviluppato. Questo perché siamo in inizio stagione, devono ancora partire le prime infezioni peronosporiche e l'erba alta aiuta a contenere le prime infezioni. Infatti la peronospora parte sempre dal suolo, quindi con le piogge viene poi trasportata attraverso le gocce, le spore vengono trasportate attraverso le gocce alle foglie delle viti. Quindi tenendo il sottofila e l'interfila in arbitro, soprattutto in un arbitro piuttosto sviluppato, conteniamo questo trasporto perché l'erba intercetta le goccioline d'acqua. Questo può aiutare appunto a contenere le infezioni primarie. Nelle zone, diciamo, rischio gelate è meglio evitare di tenere l'erba alta perché appunto si aumenta il rischio di, nel caso di appunto gelate tardive, di danneggiare le foglie, i tralci delle viti. Quindi tenendola più bassa infatti si abbassa, diciamo, il punto dove l'acqua congela e quindi l'aria è leggermente più calda dove ci sono le viti, le foglie e quindi si riduce un po' il rischio. Ovviamente è una pratica che non dà certezza assoluta di salvarsi, è una misura precauzionale. L'erba sul sottofila è abbastanza un argomento appunto, come dicevo, dibattuto per via dei diserbi. Chiaramente c'è un fattore estetico che è abbastanza impattante e che appunto dà l'impressione nei vigneti con sottofila particolarmente inerbito e alto, di vigneti disordinati, trascurati. In realtà di per sé alle viti adulte, se non ci troviamo in zone particolarmente siccitose, l'erba alta non crea alcun problema. Diciamo che una volta che è avvenuta l'infezione primaria bronosporica, è meglio tenerlo appunto pulito per favorire la circolazione d'aria. Però di per sé non creerebbe alcun problema le viti, se non appunto come un fattore estetico, oppure appunto nelle viti giovani possono andare in competizione per l'acqua e il nutrimento. Io lo gestisco personalmente con un trinciarba a fili, è una testata, quella della Rizza, ed è a fili lunghi. Sinceramente non vedo di buon occhio le testate a fili corti, perché se regolate male tendono a rovinare la corteccia delle viti. Io qui uso solo testata con appunto fili lunghi, perché lavorando di spalla il filo non taglia, non danneggia la corteccia, come si può vedere, perfettamente integra, senza condanno. Questa è una vita che ha ormai 4 anni. Io ormai lo uso da appunto 4-5 anni e al momento non ho riscontrato alcun problema. Effetto appunto 2-3 interventi all'anno, onde appunto evitare sprechi di gasolio e inquinamento inutile. Il disarbo è una pratica che comunque ritengo valida, nel senso che è economica ed è veloce, però appunto ad oggi con ormai lo sviluppo tecnologico delle attrezzature, quando via con macchine combinate, ormai appunto si può anche ovviare alla pratica del disarbo chimico, appunto con metodi meccanici. Facendo ad esempio due operazioni in una, tanti utilizzano per trinciare l'interfila insieme sottofila, facendo un'unica operazione e quindi risparmiando tempo e gasolio. Certo può essere fatto anche con il disarbo, però appunto sono delle opinioni che meno prodotti chimici mettiamo nell'ambiente, meglio è. Poi chiaramente bisogna sempre fare una valutazione globale nel vigneto della zona e via discorrendo. In collina sinceramente più in arbitro è il vigneto, meglio è, per via dell'asportazione e dell'erosione dell'acqua e quindi dell'asporto poi della sostanza organica. In pianura molti appunto sfruttano il disarbo chimico oppure anche la scalzatura, rincalzatura, ma quello appunto è un altro discorso. In questo video appunto volevo proprio trattare del sottofila, scusate, inerbito. C'è anche appunto da aggiungere che il disarbo chimico con gli anni, ci sono diversi studi che ne provano, il danno riduce la fertilità microbiologica del suolo e quindi le interazioni che ci sono tra le viti, in particolare la vici delle viti e il terreno senza entrare nei dettagli, vengono meno e quindi magari in vigneti disarbati da 15, 10, 15, 20 anni si notano viti con scarsa vigoria e produzione bassa. Chiaramente poi magari ci sono anche altri problemi come il compattamento, la mancanza di sostanza organica e discorrendo, però anche questa riduzione della fertilità microbiologica del suolo non è trascurabile, quindi anche per questo sarebbe meglio evitare il disarbo, anche se appunto in molti casi può essere una pratica appunto veloce, economica e anche forse più sostenibile, nel senso che se devo andare a intervenire con 10 interventi per gestire il sottofila, meccanici intendo, è chiaro che è molto meglio fare due disarbi all'anno e finita che sia. Nei prossimi video vi mostrerò anche come funziona il trinchel, il risultato che fa, chiaramente il suono del poione che anche se restano due o tre filetti d'erba, a parte il fattore estetico, non crea nessun problema, è chiaro che per molti anche il fattore estetico ha una certa importanza ormai nelle vigne, però appunto dal mio punto di vista, insomma si tratta sempre di un ambiente naturale, meglio, sì, non crea nessun problema, ecco. Il video per ora è terminato, poi nei prossimi video parlerò anche della gestione del sottofila con scalzatura, nel calzatore discorrendo, vi mostrerò appunto lo scalzatore anche sia a dischiera, sia alla rametta, il risultato che fa e appunto le opinioni che ho in merito. Grazie per l'attenzione, se vi è piaciuto appunto mettete un like e condividete, le critiche sono sempre ben accette, scusate sempre per il format molto casalingo, ma le attrezzature sono quelle che sono. Grazie per l'attenzione, se vi è piaciuto appunto mettete un like e condividete un like e condividete un like e condividete un like e condividete un like.